La indagine del 2021 della Camera di Commercio sull'annati mortalità delle imprese mette in evidenza una crescita generale delle imprese e un livello minimo di cessazione, quindi un dato nel complesso positivo che però va analizzato con attenzione. In particolare vediamo una crescita delle costruzioni agevolate dai bonus sulla ristrutturazione, quindi il tema dell'edilizia, un settore del turismo e dell'industria che cala, il turismo ovviamente molto colpito come anche il commercio più tradizionale dalla pandemia e una crescita delle attività sul digitale, quindi il takeaway, il commercio online, questi settori che stanno muovendo verso la digitalizzazione. Questo è un fatto positivo ma anche che mette in evidenza una tendenza che diventa una scelta, una necessità per affrontare le nuove modalità di consumo dei consumatori e dei cittadini.